Sabato e domenica due giovani ragazzi cosentini cercheranno di aggiudicarsi il titolo di campione regionale a Reggio Calabria rispettivamente nelle categorie Junior e Youth. L'appuntamento è fissato per sabato pomeriggio nella palestra Tecno Fitness di Reggio Calabria. Si tratta di un torneo che riguarda ragazzi di 16-17 anni, quindi Junior e Youth come categorie, quindi giovani. Questo torneo darà la possibilità ai vincitori poi di accedere alle fasi nazionali. Noi siamo presenti con due nostri atleti, uno si chiama Riccardo Bova Junior e l'altro è Alessandro Mazzotta Youth. Due atleti che rappresenteranno la box popolare, che tipo di percorso pugilistico hanno fatto? Sono arrivati in palestra naturalmente che avevano vissuto delle esperienze negative negli altri sport, perché chi sceglie poi i cosiddetti sport minori approdano poi a uno di questi, in particolare al pugilato, dopo una lunga serie di fallimenti o comunque di situazioni in cui si sono trovati inadeguati. Noi cerchiamo di mettere tutti i ragazzi a proprio agio, diamo una possibilità a tutti di combattere senza necessariamente pensare di tirar fuori dei campioni del mondo, dei campioni italiani. Per noi lo sport è questo, coinvolgere i giovani e fargli acquisire sempre di più consapevolezza che hanno gli strumenti, se si impegnano per emergere o comunque per fare sport come tutti gli altri, senza quella competizione fino a se stessa o l'agonismo esasperato.